questo qua è il passo delle bernine, segno spartiacque eccolo qua, qua c'è la diga, e poi c'è un altro baghetto, le mucche, tante tante mucche, e la ferroviarietica, che ci abbiamo fatto giusto due o tre foto. E' il nostro giro sull'alpe, no, sul bernine è finito. E quindi ci ritorniamo via. Via, via, via.